ascolta la nave vicino a te torna sulla nave c'è qualcuno che chi sei il signore dell'altra volta posso provarci ma sto facendo buio non so se poi ci riesco a proda lato dritto ci sta una viscaggina e tu su quella salirai oh no ci ho già provato ma sono caduto sulla saluppa faceva così freddo ma dimmi ti rendi conto che era bella la tua nave chi c'era in plancia a fianco a te no no nessuno non lascio mai salire nessuno sulla mia plancia sono gli ufficiali che sono tutti bravi come me guarda non sono in vena guarda che importante ti aspetterò ma hai detto qualche cosa ai procuratori? ogni volta che chiami tu dimitri mi dice sempre di chi che non ci sono urlo al telefono perché non sono là se no ti mostrerei come si fa ricordati però urlo al telefono non te la caverai se è andato via da lì ma non dai guai ma dimmi se all'isola del giglio chi è rimasto a bordo e quanti sono scesi già oh tanti tanti lo sai che sanno nuotare ma dimmi come fai a conoscere l'isola del giglio ci sei stato anche tu? senti io sono qui registro la chiamata e poi sono solo cazzi tuoi oh no io sono già sul taxi ma che cos'hai perché hai cambiato voce ma tu urli perché? urlo al telefono perché tu non ci andrai anche se grido cazzo lo so che non ci salirai urlo al telefono e non avrò pietà e ti assicuro che tu pagherai ricordati però urlo al telefono urlo al telefono ultima volta ormai ed il perché domani tu lo saprai valli a salvare stanno uscendo vai sulla nave si è già girata se si è girata allora addio arrivederci signore si dal procuratore grazie 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 grazie